Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come vedete oggi abbiamo un sacco di robine da mangiare e poi vi chiederete beh chi Giulia? è perché ho una challenge ovvero la pizza challenge ma come vedete abbiamo due pezzi di pizza quindi chi ci sarà con me oggi? Federica! Federica è una mia cara amica e giustamente non si può esimere da fare una challenge dove si mangia esatto bene quindi io direi subito di cominciare come funziona la pizza challenge? ce lo spiega Federica come funziona questa challenge? praticamente abbiamo due pezzi di pizza e degli ingredienti pescheremo i nomi di questi prodotti e poi dovremmo mangiarli e basta ovviamente si intende che non ci mangeremo tutto un pezzi di pizza perché pensi che... beh sei buono perché no comunque sia ecco non siamo povere cioè anche un po povere ma non siamo povere per cui abbiamo preso solo un quartino di pizza ma siccome probabilmente butteremo tutto ho pensato che era meglio prendere solo un quartino di pizza poi ce la mangiamo il resto da sole il resto si quella buona fatta bene comunque io direi subito di iniziare per cui ovviamente tu sei l'ospite quindi iniziare rimesso mamma mia vabbè dipende può anche venirci una pizza solo dolce e una pizza solo lì eccola io essendo amante del piccante come saprante è capitata l'anduia yeah questa è la pizza però l'avrei voluto che carichassi a me perché mi piace ma se vuoi te la c'è dopo l'interno no vabbè io ne metto poca e sai questa beh tu metti sta va beh sta perché se no mi sento male e basta adesso vado io spero ti capiti la mattina i biscottini raga i biscottini i biscotti guardate che sono carini me lo non so se si riescono a vedere sono piccoli sembrano delle crocchette facciamo come si fa col trucco esatto sembrano delle crocchette di cane ma sono molto carine guardiamo un po' aspetta ne mettiamo un pochino ah no ecco la cosa che sta il lambolino che non sta bene yuki ok poi io direi comunque di far fare un assaggio pure ah perché in tutto questo alla camera la camera girl esatto la camera girl che io ringrazio adesso semplicamente perché ti aiuta perché se no io non mi so metterò a fuoco e quindi mi aiuta lei quindi grazie Daniela quindi in casa mai a sergi qui che fa eh ho paura di questa cosa vai ho veramente paura tu stavile la vera yeah perché lei sapete che ama molto il biologico la campagna questa è la vera te qua va è la campagna del babbo è questa quindi è buona quindi metti la perina vera in due io ho le mani fatte di cioccolata marshmallow a me ti sta venendo dolce però marshmallow raga marshmallow allora prendiamo questo qua che è molto carino verde poi alla fine lì capito la maionese esatto perché la maionese condisce il tutto poi io ho scopato dove i popcorn ci stanno per dare sì 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 ma anche per dare quel pizzico di sale io lo so che ora mi capita la marmellata io lo so io lo so ma c'è una marmellata ma c'è una marmellata ma c'è una marmellata non copiare ho visto una R già che è marmellata già vedete la video ma va questa è abbiamo letto marmellata di abicocco avete presente quando tu sei preparato per un esame e non ti prepari un argomento eccolo qui l'argomento e il professore ti va a chiedere quell'argomento e basta che poi a me la marmellata non piace in generale solo quella di fragola ma solo che non sei eh ma solo quella di fragola al massimo di limoni ma brutta no non ce la posso fare lei è più sfigata di te comunque ma sfigati io nella vita no perché in due è marmellata e invece in due è pere guardate che bella alla fine però è carina c'è un super tema dai provata guarda stiamo andando agli scocchi maionese ehi sì sì cioè io amo giustizia giustizia io mi adoro con i biscottini ma tu proprio un bel cucchiaio gli stai dando insomma è bello essere convida cioè papà perdonami ok guardiamo un po' bene bene a te tocca sono rimaste le ultime tre cocine io spero i giustel a questo punto secondo me non ti conviene no meglio il cioccolato no e vabbè cucca pera cioccolato buono i giustel i giustel almeno insomma hai pretutto quello che ti sarebbe capitano sì ma cioè proprio l'anduia non me l'aspettavo completamente c'è ragazzi guardate è carina oggettivamente è carina poi questa qua tu devi immaginartela pure quando si scioglie tutto è schifo buono questo è finito ti mangiare si mangiano crughe io ho mangiato sempre perdonami padre por mi vita loca ok ok sono rimasti gli ultimi due cioè pop corn speriamo che prendi il cioccolato io lo spero io spero che prendi il cioccolato e vai andai con questo vabbè così la mia terza super colorata vabbè vediamo ovviamente pop corn per il chiuso del chiedente insomma bella mettiti quelli azzurri cioè infatti questo sto facendo ma li scegli guarda che carina sembra una pizza di carnevale adesso appena le finisce di comporre ve le facciamo vedere dovuti che le piazziamo in forno ragazzi ah no ok adesso le mettiamo le mettiamo in forno e le cuociamo ci vediamo tra un po' allora bentornati io non lo so più se la voglio fare questa cosa perché non vi dico il profumo che c'era in cucina cioè odore di bambini che piangono di inferno bollente di disprofondo disagio disagio no ma io vi vorrei farvi vedere soprattutto facciamo vedere insomma allora aspetta prima vorrevo farvi vedere il marshmallow mischiato alla maionese ah ricordatevi che poco fa Giulia aveva detto ma sembra buona questa pizza tutta dolce mmm marshmallow verdi la mia insomma ha un contegno perché la mia è biologica la mia è biologica quindi la mia avevo detto a Giulia poco anzi che odora di più stelle basta quindi forse non era male i marshmallow i il le pere mmm che l'angolo aspetta ma non è un buon odore vero sarà l'anguia pure che ha che schifo faccio la maionese cotta fa una buzza non la vanda santa ma addirittura è brutta eh addirittura questo perché è piccante però è buona aspetta assaggia la mia è buona il wurstel ci sta alla fine popcorn non ha un sapore raga scusate ma io non sono cioè scusami che interrotta aspetta non non si riesce a mangiare cioè io sono una che fa degli abbinamenti stranissimi ho abbinato anche la focaccia con le patate con lo yogurt questa sa di lomido non ce l'ho fatta cioè ha avuto la sepre è buona ma questa la vuoi assaggiare no no prova devi provare no no mi fido anche se c'è la marmellata gli dà quel tocco un po' dolce è buona e le pere non si sentono tanto sembra una sfortunata lei invece questa è buona veramente è veramente brutta la tua come stai facendo a mangiartela perché è a me sta più scondita sono una cura aspetta dai eh però è tina potuta la maionetela schifosa però la sta mangiando io non ce l'ho fatta allora il problema secondo me è il fatto che la maionese e il cioccolato non debbano stare assieme non debbano proprio nell'entrata guarda la delicadezza secondo me non devo stersi no è orrenda io non so come le ce l'hai fatta per assurdo a mangiarsela no la tua è buona non so come tu hai fatto a mangiarti questa ma questa è buona raga cioè stessa apparta stessa che mi hanno sentito la vera non è tanto forte come sapore non si sente quasi per niente ma è buona ragazzi la pizza con Wustle il pop corn pera marmellata in duia raga è buona questa è no quella la but cioè abbasso gli sprechi ok si pure io mangio anche le cose quattro giorni di seguito per non buttarle però va bene raga quindi iscrivetevi al canale mettete mi piace condividete il video scudate scudate nel caso in cui se fate questa pizza challenge tra voi scrivetelo insomma nei commenti e che gusti vi sono qui fuori anche io sto bruciando perché ho messo no non è così piccante tieni mandete un maschinello un maschinello sulla pizza buono ok va bene raga ci vediamo ciao 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 ciao